Siamo ancora in compagnia del dottor Giuseppe Caccioppoli che è medico psichiatra, svolge la sua attività negli Stati Uniti nonostante le sue origini italianissime, campane, quindi è per così dire conterraneo di Padre Pio ma è soprattutto testimone della sua vita straordinaria avendo frequentato il convento di San Giovanni Rotondo dal 50 al 68 ed è diventato anche un ricercatore di episodi della vita di Padre Pio. Quindi in questa duplice veste anche oggi ci guiderà a conoscere tanti fatti poco conosciuti di questa straordinaria esistenza. Spesso diventava difficile, soprattutto con il crescente numero dei pellegrini, incontrare Padre Pio, potergli parlare un attimo, quindi tante volte qualcuno approfittava del suo passaggio attraverso i corridoi per fermarlo un attimo. Ecco, un po' di episodi avvenuti nei corridoi. Nei corridoi avvenivano delle cose straordinarie. Noi stavamo in ginocchio ai due lati, il corridoi era piccolo, era poco illuminato e ci stava una sezione dove stavano solo le donne e una sezione dove gli uomini stavano in ginocchio vicino alla sacristia aspettando il passaggio. Quando Padre Pio passava ci volevano pochi secondi, ma in quei pochi secondi sembrava che lui conoscesse tutti, come se lui cercasse di dare una risposta a tutti, come di interloquire con tutti, in quei pochi secondi che lui passava. Tra l'altro quando lui passava poteva guardare o al centro e non avrebbe visto nessuno, o a destra o a sinistra. Se guardava a destra le persone a sinistra si sentivano trascurate e quindi non lo so come faceva, ma lui in pochi secondi cercava di accontentare tutti. E le figlie spirituali adesso, come per esempio capito a Teresa Venezia, che è una ben conosciuta figlia spirituale, un giorno si trovava pure lei nel corridoio, in ginocchio, e voleva poter baciare la mano di Padre Pio quando passava. Ma quando Padre Pio passò non si fermò da lei. E Teresa Venezia ci rimase veramente male e mentalmente incominciò a lamentarsi. Perché questo? Perché ho fatto? Noi mi ricordo sempre, lo prendevamo qualsiasi gesto, lo prendevamo personalmente. E così lei disse, ma che ho fatto? Perché non mi ha fatto baciare? E così rimuginava, tutta agitata. Il corridoio non era lungo, ma Padre Pio camminò altri 5-6 metri e poi si fermò. E poi si fermò. E tu non indietro. Tu non indietro e giunse davanti a Teresa Venezia. E così disse, e bacila con la mano, gli steri della mano, e bacila prima che ti do una botta sul muso. E così lei capì che Padre Pio la voleva bene e aveva sentito, aveva condentato il suo desiderio. Queste cose per noi erano normali, erano semplici, ma dopo tanti anni. Come fai? Doveva sapere, doveva sentire, doveva leggere nei pensieri. Io non voglio giudicare, ma c'era qualcosa di oltre il naturale. In un altro caso invece Padre Pio ha permesso più facilmente di baciargli la sua mano? Abbiamo l'episodio di Rina Giordanelli, che era un'altra fila spirituale, che cercava di avvicinarsi a Padre Pio e baciargli la mano in quei pochi secondi in cui lui passava. E lei la prese sul tragico, quando Padre Pio passò e lei non riuscì a baciargli la mano, la prese sul tragico e incominciò a lamentarsi con la Madonna. Se Madonna mia ti offre questa rinuncia, tu sai quanto avrei pagato? Avrei pagato col sangue il conforto di baciargli quella mano, ma non è stato possibile. E tutto questo colloquio tra lei e la Madonna che faceva, Padre Pio non c'entrava, però lui arrivava vicino alla porta e tornò indietro, avendo raggiunto la soglia della Sacra Sede, si fermò, si volse lentamente e lei dice, queste sono le sue parole, mi fissò a lungo e venne vicino a me e mi stesse il braccio verso di me, guardandome negli occhi. Mi porse la mano e disse, e bacila. E così accontentò quella figlia spirituale. Quindi in questo caso non c'è stata una delusione, è bastata una preghiera e ha ottenuto questo privilegio. Padre Pio aveva la capacità di conoscere anche a distanza pensieri augurali per esempio. Ci vuoi raccontare quest'altro episodio? Non lo so, la nipote di Padre Pio aveva accesso facilmente a Padre Pio. Ma quel giorno eri solo, l'onomastico di Padre Pio, il compleanno di Padre Pio, era il 25 maggio e dopo la messa, lei aveva assistito alla messa, dopo la messa lei pensava che ci sarebbe riuscita a avvicinarsi e a baciargli la mano e augurargli il buon compleanno. Ma non ci riuscì. Allora lei dice, quando passò Padre Pio dopo la messa per andare in sacristia, io dissi al Signore dentro di me conservacelo a lungo e gli mandò gli auguri in questo modo, diciamo senza parlargli direttamente. Sì. Dopo qualche giorno lei sentì a confessare e dopo la confessione lei disse tanti auguri visto che non li ho potuti fare il 25 maggio. E Padre Pio disse e non me li hai già fatti mentalmente. Gli auguri. Gli aveva percepiti anche quando li aveva fatti mentalmente. Invece ad altre due diciamo persone, alle figlie di un medico, Padre Pio negò il bacio della mano. E' un episodio che sta pure nella posizione questo fatto. E ci stavano le due figlie di un medico di San Marco in Lamis, che è un paese qua vicino. C'è permesso al loro padre di andare a visitare a Padre Pio. E il padre, il medico, disse sì sì, però non baciategli la mano, non lo toccate. Perché si credeva che Padre Pio avesse la tubercolosi e questa è stata sempre una cosa che si è tramandata. E lui diceva che potrebbe contagiare. E così le ragazze andarono a salutare a Padre Pio. E poi quando arrivò il loro momento, loro guardarono intorno e vedevano che tutti quanti baciavano la mano di Padre Pio. E allora loro pensavano, loro la baciavano pure noi. E si avvicinarono per baciargli la mano. Padre Pio alzò la mano, le braccia, arzò le braccia e sorridendo, disse, no no, ubbiditi a vostro padre. E le poverette diventero tutte rosse, meravigliate che il Padre Capicino sapesse qualcosa che non avevano detto a nessuno. E così è successo. E nei corridoi Padre Pio incontrò anche un frate Domenicano che diciamo fu protagonista anche di un episodio particolare che rivela anche uno dei doni di Padre Pio. Il Padre Domenicano, disse in questo episodio, riportò questo che gli era capitato, che lui stava nel convento di Pompei, il convento della Madonna del Rosario di Pompei affidato ai Domenicani. e le sore là erano divise. Padre Pio sì e Padre Pio no, però Padre Pio contro Padre Pio. E lui non diceva niente, stava sentendo. E poi pensò, forse la migliore cosa è che io vado a vedere di persona di chi si tratta. E così si mise in abiti borghesi, così da non poter essere riconosciuto come prete o come frate, e andò a San Giovanni Rotondo. E si mise in fila, pure lui, per la confessione. Ma lui riportò che Padre Pio, lui stava lontano, lo guardava fisso da lontano. E lui dice, ma perché mi guarda? Padre Pio continuava a guardarlo e poi finalmente gli fece il segno di avvicinarsi e gli disse, reverendo va a metterti l'abito e poi vieni e ti confesserò. Questo è l'episodio dove lo troviamo narrato? Lo troviamo narrato in tantissimi libri, come pure Alessandro D'Arriba, Pautona La Portata, Mary Gaudius, Moltimer, Padre Alessandro, Maria Vinovska. E' un episodio molto comune. E quindi poi, dopo essere stato scoperto da Padre Pio, che fece il Domenicano? Il Padre Domenicano disse a Padre Pio, padre, io sono venuto solo per sapere qualcosa e ho avuto la risposta su quello che volevo sapere. Adesso io ci credo. quello che dovevo credere. Un ultimo episodio riguarda due suori americane che vennero insieme a Dorothy Gaudiose. Dorothy Gaudiose era una figlia speciale di Padre Pio che vive in America e frequentemente veniva. E allora un giorno venne con due suori. Le suori parlavano solo inglese. Dorothy parlava inglese e italiano. E allora stavano in fila tutte e tre per parlare con Padre Pio. E Dorothy disse a Padre Pio, padre, queste due suori americane dicono di avere una domanda per voi. E Padre Pio disse a Dorothy, io lo so quello che vogliono. vogliono sapere loro come stanno di fronte a Dio. E lui disse pure di a loro di seguire le regole del loro ordine e di continuare quello che stanno facendo. Quindi lei incoraggiò e gli dì la risposta. Dorothy allora si rivolse alle due suori e disse in inglese, suori qual è la vostra domanda per Padre Pio? E le suori quasi allonissime risposte, digli che vogliamo sapere come stiamo davanti a Dio. Padre Pio aveva già dato la risposta prima di avere la domanda. Continueremo a narrare episodi simili nella prossima puntata, sempre in compagnia del Dottor Giuseppe Cacciopoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.